Alessandro Cedi, altro volto nuovo del Pescara, ma non nuovissimo, perché lo scorso anno avevi fatto la preparazione con il Pescara, pensavi forse di restare, poi c'è stata questa cessione al Fano, torni questa volta per restare in Biancazzurro? Beh, sicuramente sì, il mio obiettivo è rimanere, lo scorso anno, come hai detto te, ho iniziato qui, ho fatto solamente i primi giorni e poi sono stato ceduto in prestito, però non l'ho presa come una cosa negativa, anzi è solamente stato un motivo di orgoglio anche per fare un altro anno di esperienza e arrivare ancora più pronto quest'anno. Beh, io lo spero, sicuramente darò al massimo, darò al 100%, anche per mettere in difficoltà il mister e poi vediamo quello che arriverà. Parole molto positive direi, il mister ci sta dando delle idee, ci sta trasmettendo delle idee, noi stiamo facendo di tutto per metterci a disposizione e dare il 100% e trasmettere in campo quello che il mister trasmette a noi. Però sì, i compagni comunque si mettono a disposizione, ti danno consigli, tutti molto bravi, sono molto contento di questo. Grazie.